Questa è la sveglia che mi è arrivata dal Giappone con le suonerie dello studio Ghibli. Ce ne sono quattro e sono la suoneria di Nausicaa, poi ci dovrebbe essere quella di Kiki, Totoro e Laputa. Diciamo che è abbastanza grande, infatti se non potete notare con il 50 centesimi e la mia mano non è proprio piccolina. Adesso vi faccio sentire le suonerie, metto la prima qui, dietro è fatta così, così apriamo. Grazie a tutti. E poi dopo riparti, dunque questa era la prima. Adesso vi faccio sentire la seconda. Adesso vi faccio sentire la seconda. Adesso andiamo alla terza. Adesso vi faccio sentire la seconda. e infine la quarta. Adesso vi faccio sentire la seconda. Ok, queste qui sono le quattro suonerie, la sveglia ha le lancette, le stelline e i numeri che si illuminano al buio, quindi direi che è stato un acquisto molto simpatico.